Pronto? Pronto? Chi è? Aquilina da Torino Aquilina, come mia nonna, si chiamava anche lei Aquilina Eh Paolo mi aiuti eh, per favore Sì, Ruggero? Eh non lo so Arrrr Mi aiuti un attimo Arrrr Ruggero? Bonico, questo coso Lo sente? Sì Che cos'è? È un ruggito Quindi? Un orso Un cavallo No, eh no Eh no È difficile Eh no, non mi fate così Per favore Un orso Ma l'animale che per antonomasia rugisce Cavallo Ma Io me ne vado Paolo E non se vuoi il cavallo rugisce mo Mi aiuti Ma perché caspita Dove Caspita L'ha sentito Un cavallo che rugisce lei Che non posso mai più camminare con queste scarpe Chi era Chi era il Chi cavallo è? Ma le fa un cavallo che rugisce? Ma che è? Biologia genetica Chi è che rugisce? Sono emozionato Paolo Mi aiuti Ma che Va bene Ma voglio dire Siamo al minimo sindacale E l'ambarabaccio ciccocco delle domandine Chi è che rugisce? Il Leone Leone Ruggero Leone Eh? Ruggero Leone Ruggero Leone Le Leone no tutto E come? Leone 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 Citti Vi prego Leone 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 cavallo Mezzo milione Meno 50 mila per la cartelletta Leone 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 Leone